Modena custodisce un patrimonio artistico e architettonico di rara bellezza e importanza culturale. La città, nel 1598, divenne capitale del Ducato Estense. Gli Este le diedero un'impronta barocca e un prestigio che ancora oggi possiamo conoscere e ammirare nella grandiosità delle dimore ducali di Modena e Sassuolo, nei codici miniati della Biblioteca Estense, nelle collezioni d'arte della Galleria Estense. La Galleria è una delle più importanti antiche gallerie nazionali d'Italia. Erede del mecenatismo e del collezionismo estense, riflette i raffinati gusti dei duchi verso la pittura, la scultura, le arti decorative e grafiche, la numismatica. Ha sede a Palazzo dei Musei. L'attuale allestimento si sviluppa cronologicamente dal XIII al XVIII secolo ed integra l'originaria quadreria ducale con le successive acquisizioni. Spiccano le opere dei maestri della pittura emiliana, da Cosmetura ad Osso Dossi al Correggio, dai Carracci a Guercino, da Guidoreni a Leonello Spada e della pittura veneta da Cima da Conegliano a Veronese e Tintoretto. I capolavori più noti sono i ritratti di Francesco I, quello marmoreo del Bernini e il dipinto di Velasquez, geniali interpretazioni dell'immagine del principe di due diverse personalità artistiche ed esempi emblematici della ritrattistica reale del XVII secolo. Le raccolte comprendono moltissimi oggetti di arte decorativa, bronzetti, rari strumenti musicali, fra i quali la celebre Arpa Estense, raccolte antiquarie archeologiche e uno dei più importanti medaglieri d'Italia. A Palazzo dei Musei, la Biblioteca Estense conserva la collezione libraria dei duchi, ricca di preziosi codici miniati rinascimentali, tra i quali la celebre Bibbia di Borso d'Este, uno dei più belli e importanti codici miniati del mondo. Con Francesco I, duca dal 1629 al 1658, Modena trova una nuova dimensione di capitale europea. Si avviano importanti opere architettoniche, prima fra tutte la trasformazione del preesistente castello in palazzo. Nel 1634 a dirigere il cantiere è chiamato l'architetto Bartolomeo Avanzini, che diede al palazzo l'impronta fastosa del barocco romano. L'armoniosa e solenne facciata, di grande effetto scenico, è caratterizzata da due torioni laterali e da uno centrale che presenta cinque ordini di colonne sovrapposti. Il cortile d'onore, con l'elegante loggiato a due piani, è ritenuto un capolavoro dell'architettura barocca. Lo scalone d'onore, ornato da statue romane, porta alle sale del piano nobile tra le quali spiccano il salone d'onore e il salottino d'oro. Il palazzo è oggi sede dell'Accademia Militare, istituto di formazione degli ufficiali dell'esercito e dell'arma dei carabinieri. A Sassuolo si trova la residenza estiva degli Este, gioiello dell'architettura barocca settentrionale, voluta anch'essa da Francesco I. La reggia rivela un'inaspettata originalità per le soluzioni architettoniche e le decorazioni pittoriche realizzate da artisti straordinari, fra il quale il francese Jean Boulanger, pittore ufficiale della corte estense, che ben interpretano lo spirito fiabesco del barocco triunfante. Le pareti e i soffitti decorati con temi allegorici, classici e mitologici, e gli effetti prospettici delle sale, moltiplicano gli spazi in un riuscito gioco architettonico e visivo, che si allarga dalle finestre che si affacciano sul parco, con la magnifica peschiera, a sottolineare l'antico rapporto tra il palazzo e la natura circostante. Modena, città d'arte in cui scoprire il piacere del gusto, l'amore per la musica, la passione per i motori, racchiude nel suo cuore gioielli architettonici apprezzati in tutto il mondo, che evocano la grandezza e gli antichi splendori del Ducato Estense. Modena, città d'arte in cui scoprire il piacere del Ducato Estense.